Casale rileva dal fiume e al terzo minuto il gol. Frappampina riesce a servire De Rosa al centro dell'aria. Il tiro è lento ma preciso. La Lazio non può reagire anche perché al quarto d'ora Giordano è costretto ad uscire per infortunio e Melluso il sostituto non dà grossi pensieri ai difensori napoletani. Seconda rete al ventunesimo per questo infortunio di Piscedda provocato forse dal terreno ridotto a un pantano Dirseo non regala nulla. Terza rete al quarantunesimo il tiro splendido e di De Rosa per cacciatori non c'è proprio nulla da fare.